Eravamo dei bambini e ricordo molto bene quel giorno quando entrammo per vedere il padrino. Tutti in sala parlavano di ciccio coppola, ciccio coppo paesana. Come potete immaginare, volevo saperne di più. La storia che si stava svelando si presentava ricca di fatti e personaggi leggendari, ma il vero protagonista è Agostino Coppola. Io ero il primo a venire a Bernalda. Non diceva mai Bernalda, ma diceva Bernalda bella. Tutti in Bernalda, tutta una famiglia, ha un rischio. Da Agostino, c'è sempre un rischio. E poi si è andato all'America per inserire i suoi altri fratelli, lasciando la madre. Non si è andato a vedere i loro bambini. Eravamo in sette, sette maschi. Papà mi ha detto, non fate qualsiasi mestiere che volete fare, ma non perdete la musica. L'inizio degli anni venti c'era il cinema muto. Mi grandfather, Agostino Coppola, built the Vitaphone, which made movies talk. And thanks for giving my dad an Oscar. I love you. Thank you. Thank you. You know, I can't do it. That's it, that's it. Yeah, that's the fish, the fish della coppola. Thank you. Grazie a tutti.